La notizia non è la presenza che abbiamo già annunciato a Vera TV del Ministro dell'Università Cristina Messa i primi giorni di luglio. La notizia non è la presenza dello scienziato Zichichi insieme a cinque premi Nobel, l'abbiamo già detto a Vera TV. La notizia non è dell'invito, della presenza del Premier Draghi il 2 e 3 ottobre 2021. La notizia è che il Forum del Gran Sasso, organizzata dal magnifico rettore Dino Mastrocola insieme ovviamente al padre del Forum del Gran Sasso, Sua Eccellenza il Vescovo Lorenzo Leuzzi, sarà inserita come evento di eccezione al G20. Andiamo a cercare conferma. Il Forum del Gran Sasso, insomma in tutta la sua struttura, per la sua interdisciplinarietà, per la sua capacità di approfondimento, è un evento nazionale e internazionale. Quindi ci sembra abbastanza logico chiedere l'inserimento all'interno del G20. Ovviamente la notizia ufficiale della concessione è ancora lì, quindi non la possiamo dare, però secondo me ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. E il presupposto più importante è la capacità, l'attivismo e la capacità di interrelazione che ha Monsignor Leuzzi.